Domani si vota per rinnovare sindaci e consigli comunali anche in diverse città e paesi della Liguria. I centri maggiori coinvolti da questa tornata elettorale sono quelli di Genova, La Spezia e Taggia e eventuali ballottaggi potrebbero essere a Genova e La Spezia. Nell'imperiese si vota anche a Triora, Baiardo e Pornassio. Si vota domani dalle 7 alle 23 e per votare è necessario recarsi al proprio seggio indicato sulla tessera elettorale muniti dalla tessera elettorale di un valido documento di identità. In caso di smarrimento della tessera elettorale gli uffici comunali resteranno aperti per rilasciare dei duplicati. Agli elettori verrà consegnata una sola scheda elettorale ma la modalità di espressione del voto è diversa a seconda della grandezza del comune. Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco. Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco oppure tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una lista collegata al medesimo candidato. Una terza opzione è il voto disgiunto. È possibile cioè tracciare un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata. È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, almeno il 50% più uno. Nel caso tale soglia non sia raggiunta, i due candidati con più preferenze vanno al ballottaggio del 25 giugno. Vincerà il più votato tra i due.